Stabile debito pubblico a novembre, secondo i dati diffusi della Banca d'Italia, si attesta a 2.586,5 miliardi di euro. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è stato più che compensato, tra l'altro, dalla riduzione delle disponibilità liquide del tesoro e dall'effetto della variazione dei tassi di cambio. Stabili a novembre anche le entrate tributarie, a quota 42,6 miliardi. Nei primi 11 mesi del 2020 c'è stato però un calo del 5,9% su base annua. I familiari dei medici e dei dentisti deceduti a seguito del Covid potranno ricevere dall'EMPAN una pensione maggiorata. L'ente di Previdenza aveva deliberato questa misura lo scorso aprile. L'EMPAN aggiungerà fino a vent'anni di contributi ai medici e ai dentisti morti a seguito del Covid-19 per fare in modo che la pensione spettante a vedove e orfani sia calcolata sull'importo a cui il familiare deceduto avrebbe avuto diritto al termine della propria carriera. In termini economici il provvedimento comporta per i familiari superstiti un assegno pensionistico che può arrivare anche al doppio dell'importo effettivamente maturato. Nel mese di dicembre Poste Italiane ha consegnato 27 milioni di pacchi, di cui 20 milioni legati all'e-commerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019, numeri da record che confermano lo sforzo logistico messo in atto dall'azienda per rafforzare la leadership nel settore. Dopo l'entrata in funzione di un centro di smistamento a Roma nel primo trimestre del 2021 sarà la volta del nuovo hub di Milano. Di pari passo con il potenziamento dei servizi per l'e-commerce, Poste Italiane sta rinnovando la flotta per ridurre l'impatto ambientale delle sue attività. L'obiettivo è arrivare a 26 mila mezzi a basso impatto ambientale entro il 2022, in particolare per i portalettere e per il trasporto delle merci. Si chiama Easy Electric ed è la nuova soluzione integrata di Nissan Enel Energia ed Enel X nel settore della mobilità elettrica. Grazie a questa iniziativa tutti i clienti che scegliono la nuova Nissan Leaf 100% elettrica potranno ottenere fino a 10 mila chilometri gratuiti di mobilità elettrica. I clienti che acquistano la nuova Leaf ricevono subito un voucher da 480 kWh, ovvero fino a 2.800 chilometri gratis per la ricarica dell'auto presso gli oltre 12 mila punti di ricarica della rete nazionale di Enel X. Al vantaggio immediato della durata di due anni dall'attivazione del coupon se ne aggiunge un altro in bolletta con un bonus fino a 240 euro, ovvero fino a 7.200 chilometri gratis di mobilità elettrica grazie all'offerta speciale luce 240 di Enel Energia. I clienti dell'iniziativa Easy Electric inoltre potranno usufruire di condizioni vantaggiose per l'acquisto della nuova Juice Box di Enel X e aumentare il bonus in bolletta fino a 360 euro, scegliendo l'offerta speciale luce 360. Realizzata in plastica riciclata, nel rispetto dei principi di economia circolare, la nuova infrastruttura di ricarica domestica si gestisce anche da remoto attraverso l'app Juice Pass.